Eccoci qua popolo di youtube con un gran bel spacchettamento allora questo se non sbaglio è uscito Questo box è uscito il 9 luglio No ho sbagliato scusa sì il 9 luglio però il video Sarà carico su youtube ad agosto perché Non ho tempo delle robe da fare come avete visto in copertina eccola qua eccolo guardate che bel box le carte del re E andiamo subito a leggere questo joker è matto Allora 7 carte per busta 24 buste per box una carta foil in ogni bustina edizione italiana e prima edizione E direi di subito di aprire Senza spaccare la scatola perché io tengo anche la scatola Eccole qua guardate che belle Vi faccio vedere l'art war l'art war della bustina allora c'è questo Poi c'è questo Molto belli molto belli E questo doveva essere solo 3 in teoria E direi di iniziare Andiamo subito in modalità yu ghi yo Non ho proprio idea di cosa troviamo dentro perché non mi sono fatto spolverare niente Non ho voluto vedere cosa Niente Allora intanto abbiamo trovato trasferimento pendulum Un rinforzi dell'esercito Un shalom polvere di stelle Un legame eterno Attenzione numero f0 futuro utopico Poi abbiamo un baxial luminosità dello yang zing E infine matta del joker Bello questo Siete che bello Bello Spia custode di tombe Extra joker arcano Un baxia Un cavaliere della regina Zivu doppia scuola finale Castello nuvola E poi fusione figure Guardate che bella Fusione randomantica Il guerriero sopravvissuto Pendulum xyz Zivu doppia portatore di tornado Il malvagio terrorizzatore Poi abbiamo un zivu doppia armi leone E infine ragazza cristallo Per adesso mi piacciono come Arthur Tutto molto belle belle ste carte Bello sto box Mi piace Belle bustine Fusione randomantica Giara della dualità Eccolo qua Cavaliere del jack Il fratello Eccolo qua la sorella Cavaliere della regina Lo sto proprio dicendo Numero 39 Utopia Utopia Il malvagio annientatore E poi Induzione magnetica Zolga Il profeta Legame eterno Legami dei componenti Eccolo qua Il papà degli altri due Cavaliere del re Zivu doppia aquila artiglio Pendulum xyz E infine iper cannone xyz Il malvagio terrorizzatore Il malvagio avatar Costellazione pendulum Ah no Costellazione Ptolemi M7 Gran bel nome Numero 39 Utopia Poi Idolo Dagli occhi dorati Una fusione Cavaliere Joker Joker arcano E infine Evocazione Tuono veloce Guardi che bella Attenzione Andiamo Con utopia 39 Numero 39 Utopia F0 Futuro utopico Carte infinite Coniglio da soccorso Attenzione Cavaliere del re Giarra della dualità E infine Chiostro rosa Bianca Guardate che bella Zivu doppia scudo finale Xialong polvere di stelle Zivu doppia Armi leone Zivu doppia Aquila artigliano E Zivu doppia Aquila artiglio Numero C39 Raggio Utopia Castello nuvola Infine Ipercanone XYZ Cavaliere del jack Costellazione Petrolemi M7 Pendulum XYZ Cavaliere Joker Arcano Cavaliere della regina Giarra della dualità E infine Bella Corte di carte Guardate che bella Carte infinite Attenzione Eccolo qua Il coniglio soccorso Legame eterno Attenzione Fermi Fermi Non spolveriamo niente Armi leone Bello Arsenale Zen Mai A molla Il malvagio Avatar E infine Numero F0 Futuro Drago Utopico Non mi sono mai Piaciute le carte XYZ Però Quei qua Belle Veramente belle Baxel Luminosità Dello Yang Zing Trasforimento Pendulum Rinforzi Dell'esercito Xhalon Polvere Di stelle Piano 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 Non spolveriamo Niente Legame eterno Numero F0 E infine E infine Ma Drago Gemello Frammento Baxel Luminosità Dello Yang Zing Desideri Convergenti Questa Non l'avevamo Trovata ZW Portatore Di Tornado Arsenale A molla Cagliere del Re Dai Inaspettato E infine Fusione Figure Legami Dei Compagni Il Malvagio L'inforzo Dell'esercito Cavaliere Della Regina Zolga Il Profeta Il Guerrero Sopravvissuto E infine Numero 49 Sintonia Della Fortuna Guardate che bello Eccoci qua Popolo di Youtube Spero vi sia piaciuto Questa prima parte Perché ne abbiamo Il box non è finito Ne abbiamo Altre tante Però Lo dividiamo In due video Spero vi sia piaciuto Questo video Questo bel Per me Per adesso Questo box Mi strapiace Bellissimo Artwork Veramente Bello Perfino le XY Z Mi cominciano A piacere Bello Spero vi sia piaciuto Sottolineate il link Di Instagram Facebook Twitch Spolliciate Fate casino E viva le carte Yu-Gi-Oh